Il presidente del Sevilla, Giuseppe Castro dopo il Cooper 4 subito contro il Valencia ha ammesso di essere deluso dalla settimana terrificante che portato anche la sconfitta in Champions League contro lo Spartak Mosca. È stata una settimana orribile, era impossibile fare peggio. In Champions League dipendiamo da noi. Stiamo attraversando un momento difficile, e dobbiamo invertire la rossa, i tifosi non meritano queste. Bisogna solo serrare le fila e lavorare. Dobbiamo reagire già. Abbiamo fiducia in Berizzo, e siamo convinti di lui, era la nostra prima scelta. Siamo sicuri che trionferà a Sevilla come i co-act precedenti.